Dopo una seduta a Fiume, il Consiglio Comunale di Montesilvano ha approvato il bilancio di previsione 2015 con 14 voti a favore e 7 contrari. L'approvazione è stata preceduta dalla modifica del documento apportata da 6 emendamenti presentati dalle minoranze che hanno portato a dirottare 40.000 euro per la creazione di un fondo integrativo del PIS in favore di bimbi autistici e famiglie bisognose per sostenere le spese dell'istruzione, 12.000 euro per interventi di miglioramento di alcuni parchi cittadini e 10.000 euro per la sistemazione di via Don. L'approvazione degli emendamenti presentati dai gruppi consigliari di minoranza, ha commentato il sindaco Francesco Maragno, è la chiara dimostrazione dell'apertura della nostra amministrazione alle proposte dell'opposizione quando esse siano economicamente sostenibili e orientate all'interesse della collettività montesilvanese. Abbiamo chiuso il bilancio previsionale, prosegue ancora Maragno, riducendo in un anno la situazione debitoria di oltre 10 milioni di euro e abbassando il debito pro capite del 16,39%, portandolo dai 1.257 euro del 2014 ai 1.051 euro di oggi. Si tratta dell'evidente testimonianza dell'efficacia della politica che stiamo portando avanti nell'ottica del contenimento della spesa pubblica. Molti i sacrifici chiesti ai cittadini, ma tanti gli sforzi che abbiamo messo in campo in questo primo anno di attività che ci hanno già dato questi primi importanti risultati. Ancora di più saranno quelli che faremo per recidere tutti quei rami secchi che fino ad oggi hanno compromesso la florida crescita della nostra città. Continueremo a lavorare, chiude il primo cittadino, in questa direzione, sempre nel rispetto della trasparenza, della legalità e per consegnare ai nostri concittadini una montesilvano migliore.